Adesso probabilmente le carte verranno un po' rimescolate perché abbiamo visto tutti che Codi Rossa, quando è tornato in WWE, diciamo che l'universo della fidetta energia va attorno a lui, adesso dovrà stare alcuni mesi fermo, chissà se comunque apparirà magari non lottando e vediamo un po' perché ecco la sensazione è che WWE voglia utilizzarlo quanto più possibile, era il poster boy di Cell, i money in the bank, quindi ecco non credo che lui per cinque mesi o forse più o forse meno sparirà del tutto, secondo me magari non apparirà una settimana però qualche preda sporadica ce la porterà, però ecco tutto sommato, ricapitolando, bel match, bella storia anche forzata e comunque ecco penso che la federazione Codi e anche Rollins abbiano preso molte precauzioni, quindi non so fare ne scellerate, ne altro perché ecco a certi livelli niente si lascia a caso Vai Marco Allora, per iniziare la mia analisi sul main event dell'Innesel vorrei prendere in prestito un popolare meme dell'ultimo periodo solo all'inizio Cody Rhodes è il mio wrestler preferito No, ha fatto un gran match dell'Innesel Chapeau Perché non è un mistero la mia opinione che ho di Cody Rhodes come wrestler sia in WWE che nel suo percorso nelle indie e poi nei W e poi col ritorno in WWE però qui devo dire che ha dimostrato fegato, palle si può dire se non mi dissocio in caso comunque mi dissocio Vai vai, si può dire E comunque una gran capacità di storytelling insieme a Seth Rollins perché oltre all'incontro fisico hanno messo in piedi comunque una bella storia Lui stesso comunque che nonostante il dolore volesse comunque dimostrare di avere la forza per portare avanti un match di quella pesantezza, di quell'intensità, di quella violenza E poi avere la meglio sul suo avversario che è stato comunque annichilito perché comunque un netto 3-0 che con le dovute proporzioni riguarda Battista Triple H del 2005 è finito proprio con un L'Innesel che ha decretato il 3-0 di Battista su Triple H Come quella faida non ha intaccato per niente la figura di Triple H, questa non intaccarà per niente la figura di Seth Rollins, nonostante abbia letto in giro che Seth Rollins ormai è finito, è fallito, ha perso tre volte di seguito No ragazzi il wrestling, basta riscrivere un attimo una cosa e magari tempo o due mesi Rollins diventa nuovamente l'uomo da battere, l'uomo più pericoloso nella federazione E questo anche grazie a Koji si sono fatti brillare a vicenda nel senso che Kodi pur prevalendo tre volte sull'avversario non ha mai fatto pensare che fosse un gioco da ragazzi sbarazzarsi di Seth Rollins Ma ha sempre venduto cara alla pelle per poi portare a casa la vittoria e allo stesso modo Seth Rollins comunque ha lottato fino all'ultimo per poi comunque cadere sotto i colpi della superiorità del suo avversario Per cui hanno portato a casa quello che al momento è il match dell'anno uno contro uno, per mio modesto parere E il status di Koji non viene intaccato anche da questa sua assenza, potrebbe tornare per la Rumble e vingerla come farsi vedere prima come diceva Vale Sicuramente la WWE non varrà a privarsi troppo tempo del suo nuovo uomo immagine, troppo tempo off screen o fuori dal ring sicuramente Magari off screen ogni tanto qualche promo registrato, qualche segmento, qualche apparizione in abiti civili per sfidare qualche avversario sicuramente la farà Però comunque onore delle armi a Koji che è riuscito comunque a condurre insieme a Rollins un senior match Ed è una delle poche cose buone di una linea SEL che a livello globale come evento per quanto mi riguarda non ha regalato grandissime emozioni Adesso perdonatemi il paragone molto molto estremo che sto per fare È sembrato December to this member nel senso con un ottimo opener, un ottimo main event E nel mezzo, e mi dispiace per il judgment day, comunque è stato un buon match ma con un esito scontato Il 3 contro 3 Che non ha portato a niente se uno poi non sa quello che è successo il giorno dopo Perché chiaramente se si commenta l'evento non si dovrebbe commentare sapendo del futuro si commenta l'evento per quanto mi riguarda Perché la storia finisce di Aline SEL finisce Aline SEL Non posso commentare Aline SEL sapendo quello che succede il giorno dopo perché Non ha senso anche a livello narrativo Per cui commentando solo a livello narrativo quello che è successo di Aline SEL Ottimo opener, ottimo main event Nel mezzo un po' di rabo per far passare le ore dell'evento Alcuni match che erano degni di una puntata settimanale Magari anche di un main event di puntata settimanale Ma non da Peter B C'è il commento di Lucas Velsa che dice C'è sta convinzione che uno con tre sconfitte è sepolto Stiamo parlando di una disciplina scriptata dove ci vuole poco per far riprendere un personaggio Soprattutto con Rollins E soprattutto direi per forma non c'è una classica simile UFC Guardate a me viene da pensare che forse Tra l'altro con gli abbai del mio Sting in sottofondo Cioè secondo me questo match, questo main event È stato forse quello che più di tutti Ha rappresentato un po', ci ha riportato un po' Come se avessimo Triple H sul ring Cioè mi è venuto proprio da pensare a una gestione di match A anche il fatto di Cody che arriva con l'infortunio Cioè delle volte nel business Quella dose di egoismo magari Serve per queste circostanze Triple H ne ha da vendere di egoismo E in alcuni casi è risultato utile Non solo per lui Ma anche e soprattutto per il tipo di prodotto Sting Però basta imbagliare Quindi che succede? Succede che poi sono due probabilmente dei migliori allievi Di Triple H stesso E quindi è venuto fuori quello che abbiamo visto In fin dei conti Logicamente resta di fatto che Cody Rhodes Sapete benissimo come la penso su di lui E credo che fin quando possa essere controllato Un po' come Vince Russo quando era in WWE Fin quando c'è Vince e compagnia bella Che lo controllano dall'alto E che non fanno venire fuori in modo troppo eccessivo Determinati egomaniacs Riesce a fare il suo buon lavoro Poi sappiamo che Cody ha un tipo di propensione Al prodotto da WWE E logicamente gli viene anche meglio Lavorare lì piuttosto che in una All Elite Piuttosto che in una Ring of Honor Dove sì, si è tolto degli sfizi Ma effettivamente non ha mai lasciato il segno del tutto Secondo il mio punto di vista Cioè se mi chiedi Aldo Ma qual è secondo te Uno dei più iconici campioni Ring of Honor della storia Io non ti direi mai Cody Rhodes Così come non ti risponderei mai lo stesso Per il titolo NWA Per fare un esempio Quindi è questo insomma un po' la mia opinione Logicamente parliamo di un uomo che ha avuto coraggio Adesso rimarrà fuori per un bel periodo Stiamo parlando di 4-6 mesi Il segmento visto a Raw Quindi l'attacco di Rollins Sicuramente è un ulteriore motivo Che giustifichi il tutto Io credo che sia tutto scritto lì alla fine Cioè io credo che alla fine Cody Tornerà in tempo per la Rumble Annuncerà la sua presenza nella Rissa Reale Prenderà parte la Rumble E eliminerà Seth Rollins Nella contesa nella Rissa Reale E probabilmente magari chissà Vincerà la Royal Rumble Per arrivare poi a WrestleMania A contendersi il titolo mondiale Da capire poi Che tipo di gestione avrà Il titolo mondiale E in che modo La WWE vorrà Non gestirlo ma quantomeno proporlo In base a se dividerlo Se tenerlo unificato E' un po' la situazione Che poi è un po' il prossimo argomento Di questa puntata Quindi situazione di titolo mondiale In casa WWE Cioè molte voci ci parlano di un Matt Riddle In procinto di sfidare Roman Reigns Quindi un percorso che porterebbe a Riddle a Money in the Bank Randy Orton a SummerSlam Drew McIntyre Clash at the Castle Ok va bene Però adesso Tutto questo Se il titolo resta Così com'è Va un attimo A sconvolgere Tanti altri piani Vedi anche la Judgment Day Che si ricollega benissimo A questo argomento Dato che Come abbiamo visto a Raw Edge è stato letteralmente Cacciato Dalla Stable Per far posto A Finn Balor E adesso La fazione è composta Da Rhea Ripley Finn Balor E Damien Priest Ma Purtroppo Dal mio punto di vista Non c'è Damien Priest Ad avere la leadership Perché io personalmente Ci avrei visto benissimo lui A prendere le retini del tutto Non vi dico Che siano stati affrettati Più di tanto i tempi Perché io gli avrei dato Un altro mese di vita A questa Stable E per poi vedere Quello che è successo Quindi bene o male In base alle mie tempistiche Stiamo a un mese di differenza Però insomma C'è comunque curiosità Molte voci dicono Che molto probabilmente C'è stata questa divisione Questa uscita di Edge Perché c'erano un po' Dei dissidi In merito Al futuro Della Stable Dato che Secondo Fightful La WWE è in mente Di rendere il Judgement Day Un qualcosa di sovrannaturale Mentre Edge voleva Tenere le cose così come stanno Insomma bisogna capire Un attimo questo aspetto Intanto un saluto anche A Pio Prof Che ne pensi? Il discorso di Judgement Day È strano Continuano a uscire notizie Su notizie In questi giorni Non so sinceramente A chi credere Dicono che Abbiamo voluto cambiare Con Edge Che si sia ribellato Al A questo discorso Delle cose Sovrannaturali Adesso è uscita la notizia Invece che Dato che Cody Si è fatto male Loro avevano bisogno Di un Di un altro Top face All'interno Ma Non lo so Non lo so Proprio Certo Un'occasione mancata Valor Capo di Stable Di Stable Bravo Lo sappiamo Però Ti sei bruciato Priest E così Priest avresti potuto Metterlo E magari Potevi mettere Come un altro Con primario Uno stesso Ciampa Che non sta facendo nulla L'hai fatto salire E non sta Non sta Completamente Facendo nulla Vediamo Vediamo adesso Che cosa Che cosa succederà Che perché Continueranno Questa fight Con Styles Edge Andrà da Styles Dopo tutto quello Che ha fatto Fino adesso Non lo so Purtroppo Si trovano in situazioni Che Con la toppa Che stanno mettendo Rischiano di rovinare Tutto quanto Quello di buono Se c'era veramente Qualcosa di buono Fino adesso Avevano fatto Quindi Eh lo so Giota Che non c'è nessun leader Non l'hanno Espressamente detto Però Un conto Era lo Shield Un conto È una stable In cui c'è Una comedia Replay Che Tra tutti quanti È quella che è Potenziale Là in mezzo Però prof Posso dirti Che Probabilmente È l'unica stable Dove tu hai La seria possibilità Di Dare Concedere successo A giovani Sì Ma non ci deve essere Balor Non ci deve essere Balor Ok Là in mezzo Però serve Per il momento Dato che hai tolto Adesso Edge Dalle scatole Serve comunque Un nome interessante Anche se Per come è stato Gestito Balor Fino alla NW A questo punto Sarebbe stato Meglio Metterci Styles Al suo posto Sarebbe stato Meglio Metterci Styles È vero Sarebbe stato Meglio Metterci Styles Cioè Là in mezzo Per esempio Uno che ci stava Benissimo Al posto di Balor Lo stesso Kevin Owens Ci stava Benissimo Però sta impegnato A fare A fare altro Sprecato Totalmente Veramente sprecato Vero Prista 39 anni Cavolo Vero Vero Sì 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 Dimenticavo Dimenticavo Questo particolare Là in mezzo L'unica giovane Ria Replay Mi sa che Ria Replay Allora ho detto La strozzata A 25 Se non sbaglio Non ci arriva Porca miseria L'ho detto L'unica col potenziale Là in mezzo È Ria Replay Ed è Pure Ciampa Non passiamo lì con l'età Quindi Quindi parliamo Parliamo di supposizioni Che però Sono fine a se stesse Vediamo Balor che l'intenzione fa Il problema è un altro Uno deve Quando crea una stable del genere Deve sempre chiedersi Ok Qual è il loro obiettivo finale Il loro obiettivo è Mandare qualcuno per il titolo Quindi In qualche modo Spingeranno Balor per il titolo Massimo O ci spingeranno Prista Il discorso Il discorso è un altro Prof Il discorso è che Se tu hai il titolo Unificato Per far arrivare Ipoteticamente Un Balor a vincere il titolo Cioè tu hai due strade La prima Dargli Quella più semplice Diciamo La scappatoia Dargli Il money in the bank Farlo incassare E farli vincere il titolo In quel modo lì La seconda Costruirlo In modo tale Da arrivare A uno status Così enorme Da farli vincere il titolo Solo che poi Hai bisogno di tempo In quel caso Quindi a questo punto La domanda è Non sarebbe meglio Considerare ancora Titoli divisi E quindi magari Un ipotetico Mr money in the bank Va ad incassare Su una delle due cinture Non su entrambe Le cinture Assolutamente sì E soprattutto Secondo me Fanno una cazzata Enorme Se non danno il titolo Re-replay A money in the bank Già Ma al massimo Entro SummerSlam Mettiamola così Ma al massimo Ma proprio al massimo Entro SummerSlam E se tu vuoi rifare Veramente il rematch Tra Bianca